Benvenuto nel nostro canale! In questo video parleremo di 5 errori comuni nell'allevamento dei pesci tropicali. Allevare pesci tropicali può essere gratificante, ma ci sono alcuni errori comuni che i principianti e persino gli appassionati possono fare. Ecco 5 errori comuni da evitare nell'allevamento dei pesci tropicali. 1. Sovrappopolazione dell'acquario. La sovrappopolazione dell'acquario è uno degli errori più comuni nell'allevamento dei pesci tropicali. Quando l'acquario viene riempito con troppi pesci, si crea un ambiente stressante poco salubre per loro. La sovrappopolazione può causare un accumulo rapido di rifiuti biologici come ammoniaca e nitriti che possono avvelenare i pesci. Inoltre la scarsa circolazione dell'acqua può privare i pesci di ossigeno sufficiente, portando a problemi respiratori e persino alla morte. Per evitare questo problema è fondamentale comprendere le dimensioni adulte di ogni specie di pesce e stabilire un numero adeguato di esemplari in base alle dimensioni dell'acquario. Mantenere una popolazione bilanciata permette ai pesci di godere di spazio vitale adeguato, riduce la competizione per il cibo e migliora la qualità dell'acqua. Inoltre effettuare cambi d'acqua regolari e mantenere un sistema di filtrazione efficiente aiuta a mantenere i livelli di rifiuti sotto controllo, creando un ambiente sano e armonioso per i pesci tropicali. 2. Ciclo incompleto dell'acquario. Il ciclo dell'azoto è un fondamentale processo biologico nell'acquario che converte i rifiuti dei pesci in composti meno nocivi. Purtroppo molti principianti ignorano o sottovalutano l'importanza di far ciclare l'acquario correttamente prima di introdurre i pesci. Un ciclo incompleto può provocare gravi problemi per i pesci tropicali. Quando vengono aggiunti i pesci, senza che il ciclo dell'azoto si sia stabilizzato, si verifica un accumulo di ammoniaca prodotta dalle feci dei pesci e resti di cibo non consumato. L'ammoniaca è tossica per i pesci e può danneggiarne le branchie e il sistema nervoso, compromettendo la loro salute e la loro sopravvivenza. Inoltre l'ammoniaca viene convertita in nitriti, anch'essi dannosi, aggravando la situazione. Per evitare questo scenario è essenziale far ciclare completamente l'acquario prima di introdurre qualsiasi pesce. Ciò si ottiene aggiungendo una fonte di ammoniaca e lasciando che il processo biologico si sviluppi, convertendo l'ammoniaca in nitriti e successivamente in nitrati, che sono meno dannosi. Solo quando i livelli di ammoniaca e nitriti sono indistinguibili e i nitrati sono presenti in quantità accettabili, l'acquario è pronto per ospitare i pesci in modo sicuro. Un test kit per l'acqua è uno strumento utile per monitorare e verificare che il ciclo dell'azoto sia completo prima di introdurre i pesci nell'acquario. Prendersi il tempo per eseguire questo processo correttamente contribuirà a garantire la salute e il benessere dei pesci tropicali nel lungo periodo. Prima di proseguire con il video, ti ricordo di iscriverti al canale e di attivare la campanella per non perderti i nostri video. 3. Alimentazione eccessiva o sbagliata Un'alimentazione eccessiva o scorretta è uno dei problemi più frequenti nell'allevamento di pesci tropicali. Molti proprietari possono cadere nella tentazione di sovralimentare i loro pesci, ma questo può avere conseguenze gravi. L'eccesso di cibo non consumato può accumularsi sul fondo dell'acquario, decomponendosi e deteriorando la qualità dell'acqua. I residui di cibo in decomposizione producono ammoniaca e nitriti, sostanze tossiche che possono intossicare i pesci e causare gravi problemi di salute, come infezioni, malattie e persino la morte. È fondamentale alimentare i pesci con moderazione, somministrando solo la quantità di cibo che possono consumare in pochi minuti, evitando sprechi. Inoltre, ogni specie di pesce ha esigenze nutrizionali specifiche, quindi è essenziale fornire un'alimentazione bilanciata e adatta alle loro esigenze. Si possono utilizzare mangimi commerciali di alta qualità o cibi vivi o congelati, a seconda delle preferenze e delle necessità dei pesci. Oltre all'alimentazione, è anche importante seguire un programma regolare di pulizia dell'acquario per rimuovere eventuali residui di cibo e mantenerlo pulito. In questo modo si preserva la salute dei pesci e si crea un ambiente sano e stabile per loro. Prendersi cura dell'alimentazione dei pesci in modo responsabile e consapevole, contribuisce a mantenerli felici e in buona salute nel lungo termine. 4. Mancanza di pulizia e manutenzione La mancanza di pulizia e manutenzione adeguata può causare gravi problemi nell'acquario dei pesci tropicali. Un ambiente trascurato può portare a una drastica diminuzione della qualità dell'acqua, mettendo a rischio la salute dei pesci. La mancanza di cambi d'acqua regolari può accumulare una serie di sostanze nocive, come nitriti e nitrati, che possono diventare tossici per i pesci. Ciò può causare stress, malattie e persino morte prematura dei pesci. Inoltre, un filtro sporco e non pulito può compromettere la sua efficienza nel rimuovere rifiuti e detriti dall'acqua. Ciò può portare a un accumulo di materia organica in decomposizione, che rilascia ancora più sostanze nocive nell'acquario. Un filtro ostruito può anche creare zone di basso flusso d'acqua, favorendo la proliferazione di alghe indesiderate. Per mantenere l'acquario sano è essenziale stabilire una routine di pulizia regolare, che includa cambi d'acqua parziali settimanali o quindicinali, e la pulizia del filtro. Rimuovere anche detriti e residui di cibo dal fondo dell'acquario aiuterà a prevenire la decomposizione e il peggioramento della qualità dell'acqua. Una pulizia e manutenzione adeguata sono fondamentali per creare un ambiente equilibrato e sano per i pesci tropicali, consentendo loro di prosperare e vivere una vita lunga e felice nell'acquario. 5. Introdurre pesci incompatibili Introdurre pesci incompatibili nell'acquario è un errore comune che può portare a situazioni stressanti e potenzialmente pericolose per i pesci. Ogni specie di pesce ha le proprie esigenze ambientali, comportamentali e territoriali. Alcuni pesci tropicali possono essere territoriali e aggressivi verso altre specie, mentre altri possono essere timidi e vulnerabili a pesci più grandi e attivi. Prima di acquistare nuovi pesci è fondamentale condurre ricerche approfondite su ciascuna specie desiderata. È necessario prendere in considerazione la taglia adulta, il comportamento sociale, la dieta e le esigenze di spazio e nascondigli. Gli acquaristi dovrebbero scegliere pesci che hanno abitudini alimentari e comportamentali compatibili per evitare conflitti. La creazione di un ambiente pacifico e armonioso nell'acquario dipende dalla selezione di specie compatibili. Alcuni pesci tropicali possono essere mantenuti insieme in modo sicuro, creando un equilibrio ecologico. Consultare gli esperti in un negozio di animali o una comunità online di acquariofili può essere utile per ottenere consigli sui pesci adatti da mantenere insieme. Inoltre, monitorare attentamente l'introduzione dei nuovi pesci può aiutare a identificare eventuali segni di stress o conflitti. Se si verificano problemi di compatibilità, è necessario agire prontamente e, se necessario, separare i pesci in un altro acquario adeguato alle loro esigenze. La scelta oculata di pesci compatibili garantirà un ambiente tranquillo e sano per tutti gli abitanti dell'acquario. Evitare questi errori comuni può contribuire a creare un ambiente sano e felice per i pesci tropicali e rendere l'allevamento un'esperienza più gratificante. Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi? Commenta qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Ti ringraziamo per la visione!